salve a tutti e benvenuti al centro marini ferramenta io sono chiara e oggi sono qui per mostrarvi il nostro punto vendita partiamo dall'area tecnica dove potrete servirvi grazie a un personale specializzato dove troverete la tutte le serrature di obbligazioni chiavi le obbligazioni delle comandi e servizio tintometro di qua possiamo trovare tutta l'accessoristica sempre per la pittura quindi vernici diluenti e via discorrendo i sigillanti non solo a livello professionale ma anche domestico qui tutti gli elettro utensili tutta l'accessoristica più avanti il reparto lampadine il reparto compressori e qui il reparto sicurezza dove potrete conservare in maniera sicura i vostri effetti personali corsia a materiale elettrico dove potete servirvi in tutta autonomia reparto idraulico dove troverete tutti i ricambi idraulici utensileria manuale e minuteria qui c'è tutta la minuteria suddivisa in tipologia forma e dimensione qui c'è il reparto stagionale quindi adesso abbiamo messo le stufa a combustibile ma ad estate utilizzere metteremo in esposizione tutta il condizionamento dei rinfrescatori più avanti troveremo il reparto antinfortunistico quindi scarpe abbigliamento reparto per la sicurezza individuale quindi mascherine tute da lavoro occhiali e guanti andando verso la fine del negozio troviamo il reparto gourmet fai da te non solo in cucina ma anche in giardino con tutti i barbecue e accessori sia barbecue a gas che a carbone ovviamente infine l'ultimo reparto è quello del giardinaggio giardinaggio troverete tutti gli accessori e le attrezzature per mantenere in ordine il vostro giardino detto questo non mi resta che dirvi di venirci a trovare e vi aspettiamo